Le bandiere arriveranno dal mare con mezzi della Guardia Costiera di Giovenova e i tedoferi saranno sulla barca Gabriele Tarquini, ex pilota di Formula 1, nonché campione del mondo del turismo, che porterà la fiacqua, la quale poi in banchina verrà accolto dagli atleti della Amicacci di Giovenova, che sono feschi vincitori dello scudetto del basket. Particolarmente attesa è la cerimonia di apertura della Festa Nazionale dello Sport Scolastico 2023, che si svolgerà il giorno 23 maggio alle 18.30 nell'area del Molo Nord del Porto di Giulianova. Inevitabile il pensiero agli atleti di Ravenna. Questa cosa mi emoziona, ve lo dico con tutto il cuore, perché anche noi abruzzesi abbiamo avuto i nostri problemi negli anni di ero, quindi parliamo di questo. Proprio adesso, mezz'ora fuori, c'ho la telefonata della collega di Ravenna, la quale sta cercando i suoi alunni, perché non sanno più dove stanno, dislocati in altre situazioni. Diciamo che sì, cerchiamo di farla, addirittura mi hanno chiamato per dire ma noi non abbiamo le maglie, perché la scuola è allagata, non abbiamo i palloni. Ho detto guardate, di questo non vi preoccupate, perché le vostre maglie, i vostri palloni sono già pronti. Protagonista la costa della Rivera Terramana dal 22 al 26 mazzo, 2000 gli studenti coinvolti da 19 regioni italiane con il Trentino Alto Adige che presenterà due delegazioni. E la diciassettesima finale che l'ufficio scolastico regionale, grazie anche ad un esercito di professori volontari, organizza in dieci anni. Con i ragazzi delle scuole secondari di primo grado, quest'anno ci saranno campionati di baseball, basket 3 contro 3, canottaggio 5, pallavolo, rugby 10 contro 10, vela 4, tennis tavolo e danza sportiva. Unica disciplina che vedrà anche partecipare allievi della scuola secondaria di secondo grado. Attraverseremo con il corteo delle regioni, preceduto anche da, devo dire, da una banda, perché poi nei prossimi giorni a giorno 9 sarà il Festival delle Bande, la banda addirittura del Porto Rico che ci abbonerà, arriveremo al porto, ci sarà una parte protocollare. Le gare si disputeranno negli impianti di Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pineto, Morrodoro, Alba Adriatica, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo e nella frazione Ripattoni di Bellante. Il 25 maggio, le 17.30, nella piazza del municipio a Roseto degli Abruzzi ci sarà la festa delle regioni. Per l'occasione verranno allestiti piccoli stand nei quali si potranno esporre, oltre che offrirne la degustazione di specialità tipiche.